Benvenuti nel mondo Benzinger. La storia di Joachim Benzinger inizia quando ancora adolescente, decise di intraprendere la carriera di orologiaio. Dopo aver completato la sua formazione, lavorò per molti anni per alcuni dei più importanti marchi di orologi svizzeri, acquisendo conoscenze e competenze che gli permisero di diventare un artigiano di grande talento. Nel 1999 decise di fondare il suo marchio di orologi che avrebbe prodotto solo pezzi unici, completamente fatti a mano. Orologi e movimenti incisi, scheletrati e ghigliosce a mano sono il risultato della sua arte indipendente. La filosofia di Benzinger è quella di utilizzare solo i migliori materiali, combinati con tecniche artigianali tradizionali per creare orologi unici e irripetibili. Lavora solo su commissione, e ogni pezzo è personalizzato per il cliente che lo commissiona. Ma la vera bellezza degli orologi di Benzinger è la loro rifinitura a mano. Questa tecnica, chiamata anche skeletonizing, prevede la rimozione di tutte le parti non essenziali del movimento, per lasciare solo le parti principali, creando così una sorta di scheletro dell'orologio. La rifinitura a mano di queste parti, come gli ingranaggi e le molle, dà vita ad una bellezza unica e senza eguali. Nonostante la natura artigianale dei suoi orologi, Benzinger è stato in grado di unire la sua passione per la tradizione orologera con la modernità, creando movimenti che utilizzano tecnologie all'avanguardia. Ciò gli ha permesso di essere riconosciuto come uno dei migliori artigiani al mondo. Grazie a tutti.